Allora, sono stato attirato in questo convegno per la parte artistica, ma è evidente che alcuni dei miei punti di vista sulle monete complementari o similari sono note, quindi vi farò un cenno di tutte e due. Per un cenno di tutte e due, però mi piace proprio iniziare con l'aspetto artistico, perché nel mistero della moneta, questo mistero che il professore ha accennato all'inizio, che cos'è la moneta, cos'è che gli dà valore, e che mi ha spinto anche ad approfondire questo tema, perché mi rendevo conto che insegnando in classe, io insegnavo intermediari finanziari, cattolica, a un certo punto mi hanno messo al terzo anno, pensavo di trovare delle persone più preparate, nel momento stesso in cui io arrivavo a fare delle domande però totalmente basilari, appunto, cos'è la moneta, perché vale, mi rendevo conto che purtroppo c'erano dei buchi terribili. L'aspetto di questo mistero del valore della moneta è stato colto da tanti artisti, sia dal punto di vista della realizzazione dell'arte, sia dal punto di vista pratico. Qua, per esempio, a Milano, tanti artisti in quel periodo incredibile degli anni Cinquanta, campavano con i loro quadri. C'erano dei benefattori, più famosi, tra i quali per esempio i Boschi di Stefano, la cui collezione smisurata è ora la parte centrale del nostro museo del Novecento, che sfamavano fisicamente l'artista in cambio di quadro. Quindi c'era Dova, Crippa, nomi incredibili del nostro sistema dell'arte che non avevano fisicamente il denaro per mangiare. E qui arriviamo a un altro tema che è stato toccato, la scarsità della moneta. Allora cosa faceva? Loro, facendo il quadro e donandolo all'appassionato, riuscivano ad ottenere il pasto. Poi abbiamo un artista pazzesco che ha contribuito alla fine dell'informale, quel periodo artistico dove si facevano quadri senza nessun tipo di rappresentazione del reale, proprio che diciamo, vediamo il nostro pavimento, insomma ricorda un po' giusto per capire di che stiamo parlando. Pinot Gallizio, che era un farmacista, faceva tutt'altro, a un certo punto ha deciso di provare a distruggere il mercato dell'arte con l'eccesso di stampa, una specie di venezuelano dei nostri tempi, o di Weimar dei nostri tempi. E allora cosa faceva? Prendeva rotoli con decine di metri di tessuto, di tela, venivano dipinti da lui e dai suoi amici che aveva fatto una specie di comunità, insomma, ad alba, con colori industriali, catrame e così via, e poi venduti a metro. Andava proprio al mercato e a seconda di se uno chiedeva due metri di quadro, un metro e mezzo e così via, con la forbice, tagliava e metteva lì. Il suo intento era proprio distruggere il valore dell'arte. Dice io ti faccio vedere che ne posso fare, quante ne voglio. E purtroppo anche in quel caso il valore ha vinto, perché poi Pinot Gallizio è morto subito e questi suoi rotoli di pittura industriale hanno cominciato a diventare preziosissimi e tuttora hanno un valore incredibile, fortunati quelli che ce l'hanno. E quindi non è riuscito purtroppo a distruggere per lui, a distruggere il valore dell'arte, eccedendo con la stampa, diciamo così, perché ogni tanto uno dice ecco, tu Borghi vuoi stampare troppa moneta così, poi niente vale, si va in giro con le carriole, si va in giro con le carriole di moneta e così via, no, non ci siamo. Cioè sono tanti di altri esempi, vale a dire i dollari di Andy Warhol. Dollaro firmato da Andy Warhol vale molto più del dollaro normale, perché c'è la sua attività. Ma l'artista è riuscito in tante cose, insomma 60 anni fa, non troppo distante da qui, uno fra i più geniali milanesi, Pietro Manzoni, è riuscito a far diventare preziosa il fiato, dico il fiato, non altre cose forse più popolari della sua produzione, ma limitiamoci al fiato dove mettendo il suo fiato in un palloncino e il fiato d'artista diventa prezioso e può essere venduto. Altro aspetto poi, così almeno chiudo la parte dell'investimento in arte, beh, altro aspetto è quello di un'improvvida uscita di un ex ministro che dice che l'arte non si mangia. Beh, immaginiamoci quanto mangerebbe Venezia senza l'arte. Venezia senza l'arte, un bel gruppo di case su palafitte, ma io secondo me dubito che mangerebbero quanto invece può essere la ricchezza e il valore che adesso rappresenta Venezia. Milano senza il Duomo. Non so se qualcuno ha mai fatto uno studio per valutare cos'è l'indotto che nella storia il Duomo di Milano ha rappresentato per la nostra città, ma sebbene il costo della realizzazione sia stato incredibile, suppongo che il ritorno poi di tale realizzazione sia stato incredibilmente superiore e continua tuttora a produrre i suoi effetti. Ma adesso, se uno volesse approfondire come un bene artistico può diventare oggetto di scambio a riserva di valore, il tema è lungo, però l'importante è che sta avvenendo proprio quello. Il fatto che sia sempre più possibile avere i dati delle battute d'asta di ogni quadro, in ogni momento, in giro per il mondo, comporta che è molto semplice per tutti verificare l'effettivo valore di una propria opera d'arte e quindi nel momento stesso in cui io so dare un valore oggettivo di mercato a un bene che prima non ce l'aveva, ecco che questo diventa un bene di investimento. E quindi è molto importante da quel lato lì vedere cosa sta avvenendo anche nel sistema dell'arte. È molto interessante studiarlo e probabilmente io, sempre quello che dico, ogni volta che tanti comuni e così via rifiutano delle collezioni d'arte perché dicono ma che noia, che fatica a doverlo gestire, doverlo concedere delle sale per poi metterli in vista. Ecco, io metterei sotto tante cose un cartellino del prezzo, perché va bene la descrizione di quanto l'artista voleva dire con quel quadro e così via, ma io sono convinto che tante persone, una volta che io gli metto il cartellino del prezzo sotto, possono anche dare un'occhiata un po' più attenta a certe cose che invece in certi casi snobbano. O quello lì è solo un taglio sulla tela, o quello lì è solo un buco sulla tela, o è così via. Benissimo, un taglio sulla tela vale magari 20 milioni e forse certamente i pigre possono cominciare a darci un po' più attenzione. Beh, diamoci un po' di attenzione anche su che cos'è la moneta, perché tante menti pigre invece continuano a non capire che diamine è la moneta e tante menti pigre continuano a non porsi delle domande che dovrebbero essere incredibili e alla base di qualsiasi dibattito. Abbiamo citato tante volte qua nel dibattito anche oggi il quantitative easing. Beh, io faccio sempre una domanda molto semplice alla gente e dico ma se la banca centrale ha creato, banca centrale europea è poi la cifra totale, abbiamo visto che in giro per il mondo è iperbolicamente superiore, ma se la banca centrale europea ha creato 1200 miliardi per decidere, perché è una sua decisione, non è che gliel'abbiamo detto noi, non è che i nostri governanti abbiano mai votato per far fare quantitative easing alla banca centrale europea. La banca centrale europea non risponde a nessuno, è qualche problema uno se lo dovrebbe porre, però nella sua autonomia ha creato 1200 miliardi per decidere di acquistare titoli di Stato sul mercato. Quello che dico io è, se la banca centrale europea avesse creato 1200 miliardi e 120 milioni, quindi lo 0,00 di quello che ha creato, e con quei 120 milioni avesse fatto un ospedale, che cosa sarebbe successo? Perché a giudicare da come ragionano in molti, sembra che, non so, si apre la volta del cielo, vengono giù gli angeli vendicatori, perché si sta rompendo chissà quale tabù, no, la risposta è molto semplice, avremmo un ospedale in più. Chi l'avrebbe pagato? Noi con le nostre tasse? No, è stato pagato con soldi creati dalla banca centrale europea. Se uno ragiona un attimo su questa cosa, forse capisce che tutto il teorema della scarsità del denaro non è che tiene tantissimo. Se il denaro è scarso è perché c'è un intento di farlo diventare scarso. E non tiene tantissimo neanche il discorso del debito, perché i 1200 miliardi di debito comprati dalla banca centrale europea con denaro creato, cosa succederebbe se domani io li a zero? Niente. Nulla succede perché sono già stati creati, sono già stati comprati. È come se la banca centrale europea, agendo da parte integrante del sistema degli stati europei, si trovasse in quanto parte integrante di questo sistema degli stati, così come lo è la banca d'Inghilterra per lo stato inglese, così come lo è la Federal Reserve per lo stato americano, così come è la Bank of Japan per lo stato giapponese, essendo parte dello stato, se lo stato è debitore in quanto emettitore del titolo di stato, ma anche creditore perché se l'è già ricomprato e quindi ce l'è in tasca, per uno schema semplice di bilancio consolidato, essendo che io sono debitore e creditore, allo stesso momento posso tranquillamente elidere le due voci e, come tale, cancellare il debito pubblico ricomprato con le operazioni di quantità di vising. Quindi quando io sento dei fenomeni che ogni tanto si svegliano dicendo «ah, noi potremmo fare delle ottime patrimoniali per raccogliere 200 miliardi e abbattere il debito pubblico», gli dico «ma se tu vuoi fare una cosa un po' più intelligente, dato che ci sono 200 miliardi di debito pubblico italiano ricomprati dalla Banca Centrale Europea, dovresti batterti per cancellarlo». E così avresti molto risorse volendo per poter fare quello che incredibilmente Fantacci vi diceva all'inizio, e dice «ma insomma ci sono tanti disoccupati e ci sono tante cose da fare». Cos'è che non funziona? Non funziona perché manca il denaro. Ma il fatto che manchi il denaro però abbiamo visto, o quantomeno spero che abbiate intuito da queste mie poche parole, che è una decisione politica, non è una costrizione fisica. Non è che manca il denaro perché il denaro noi dobbiamo, siamo ancora il gold standard, che dipende dall'oro estratto dalle viscere della terra e quindi se non ce l'abbiamo non possiamo fare determinate cose. No, il denaro possiamo decidere di metterlo in circolazione esattamente come lo fa il Giappone, come lo fa la Gran Bretagna e così via. Qual è l'unico limite? Il limite non eccedere, perché se io eccedo poi si crea inflazione, allora a quel punto ho una riduzione globale del valore del denaro perché non è ricchezza il denaro, ma se il denaro in sé per sé non è ricchezza, cioè io non creo ricchezza stampando denaro, è sicuramente povertà il non farlo. Se io creo artificialmente una scarsità per il denaro, sì può anche andare bene dal punto di vista di qualche creditore, ma dal punto di vista della gestione economica di uno Stato direi che proprio non ci siamo. Quindi facciamocene queste riflessioni, poniamoci questo dubbio, cos'è che non funziona proprio alla base? Dopo andiamo a ragionare volendo su come ingannare, perché il professore Sposito ha detto una cosa giustissima, diceva che il piano A non funziona, allora cosa faccio? Cerco dei piani B. Però a me piacerebbe anche vedere perché non funziona il piano A. Aggiungo quindi e poi chiudo il mio contributo a diversi esempi di monete complementari dicendo quello che è la proposta mia, ufficiale anche del mio partito, ma per l'emissione di moneta complementare che ha come unico scopo invece quello di agevolare un'eventuale transizione fuori da questo mondo di artificiale scarsità della moneta dato dall'euro, che è quello dei minibot. Vado a dire, noi abbiamo in questo momento i titoli di Stato italiani che hanno come taglio minimo 1000 euro. Non è scritto da nessuna parte che debba essere il taglio minimo 1000 euro. Quindi se tutti i debiti dello Stato che corrispondono agli attuali crediti d'imposta, i 70 miliardi dei debiti nei confronti delle imprese, i rimborsi per i truffati delle obbligazioni, insomma ce ne sono tanti, si va a circa 100 miliardi, crediti IVA e così via, venissero pagati dallo Stato con titoli di Stato di piccolo taglio, così casualmente potremmo pensare di farne da 5, da 10, da 20, da 50, da 100 e magari li coloriamo, tipo quelli da 5 grigi, quelli da 10 colori a caso, quelli da 10 un po' rossi, quelli da 20 un po' blu, quelli da 50 un po' arancioni e così via. Mettendo in circolazione questo denaro che sono debiti della pubblica amministrazione, quindi non è che sto creando niente, è semplicemente un saldare dei debiti che già ci sono in questo momento, seppur magari non direttamente contabilizzati, ma sono un impegno dello Stato, avremo in circolazione una massa monetaria che sarebbe analoga a quella attuale delle banconote. Cosa mi comporta? Mi comporta che si svilupperebbe un mercato, perché se questi titoli di Stato di piccolo taglio fossero accettati immediatamente dallo Stato come pagamento fiscale, ma anche e soprattutto dei servizi forniti dallo Stato, si pensi alla benzina, se l'Agip a un certo punto accetta i titoli di Stato di piccolo taglio come pagamento alla benzina, capite che è impossibile che ci sia un mismatch di valore fra questi titoli e la moneta corrente, perché se uno volesse vendere a 40 euro un minibot di valore facciale a 50, lo comprare io e andrei a farmi benzina all'Agip senza problemi, quindi automaticamente avrebbe esattamente lo stesso valore così come aveva il valore di 200 lire il gettone del telefono per intendersi, similari perché tanto in ogni caso aveva un immediato uso fattibile che era quello appunto per telefonare. Così facendo io avrei in breve tempo una circolazione di una virgolette, chiamiamola moneta parallela nazionale, che mi consente di evitare di rimanere chiuso fuori da eventuali manovre di coercizione alla greca, se per caso si facessero delle trattative nei confronti dell'Europa particolarmente serrate, dato che non è simpatico dal punto di vista della democrazia dover andare a trattare con qualcuno che nel momento in cui tu tratti ti chiude le banche o ti chiude l'emissione del denaro. Non so, io ho un senso della democrazia un po' diverso rispetto a quello che dovrebbe essere questo modo di costruzione, mi piacerebbe avere la possibilità, uno spazio più sereno per i miei cittadini e quindi avere una moneta che non è controllabile dall'esterno. Ecco, così facendo è un metodo semplice e semplice e alla fine potrebbe anche, senza controindicazioni immediate che io vedo, per avere una moneta parallela per eventualmente gestire una transizione non è fuori da questo sistema. Chiudo ricordando invece cosa succede quando si attacca una moneta a un valore reale come per esempio l'oro, due biennali fa un artista italiano, Golia, aveva presentato un blocco di cemento con dentro un chilo d'oro sparso e il pubblico era libero di cercare di prenderlo e quindi c'era la folla con dita, chiavi e così via che scavava questo blocco di cemento cercando di tirar fuori le pagliuzze d'oro che in esso erano effettivamente contenute. La scarsità fa fare cose sceme, vale a dire mettersi lì in mezzo a una mostra adatta, grattare con le unghie un blocco di cemento. Invece penso che un uomo non dovrebbe essere messo in questa condizione ma la sua dignità dovrebbe arrivare in prima di qualsiasi altra considerazione politica.